In questo campo vinci con pochi elementi, lo spirito dell'empatia nei confronti delle altre persone. L'amare il cinema, non avere paura di fare brutte figure. Il controllo delle file, la collaborazione con il personale che si occupa del controllo dei biglietti, rispondere alle domande che può fare il pubblico. Qualcuno di noi va a recuperare i microfoni. Quando tu sai le due, tre, quattro regolette non hai altri problemi. Io amo la mia città. Chiamo il cinema, chiamo i rapporti interpersonali e credo che ognuno di noi, attraverso attività le più diverse come può essere questo, porti a casa un qualcosa. Non sotto il profilo economico, ma etico. Per cui viva il Torino Free Festival!